Il video della struttura di come deve essere montata la struttura come si vede questa struttura piccola, triangolare molto molto piccola viene unita con lo snodo grande lo snodo grande ha due buchi ok? ha esattamente due buchi e i due assi vengono poi uniti all'altra struttura A4 grazie a tutti